Al movicentro di Cuneo, da anni al centro di polemiche in quanto fino ad oggi del tutto inutilizzato, qualcosa si sta mettendo in moto. Il comune aprirà presto la quinta farmacia comunale. I motori si sono accesi e devono girare a gran ritmo perché bisogna aprire entro metà marzo, altrimenti non si apre più. Il progetto preliminare generale della stazione d'interscambio prevedeva che il fabbricato ospitasse una nuova biglietteria ferroviaria e una sala d'attesa integrata per autobus e treni. Nella realtà mai trasferiti dai locali della stazione. Il movicentro ospita anche dei locali commerciali da concedere a privati che fino ad oggi non hanno destato alcun interesse. Così come non sono appetibili i locali commerciali all'interno della stazione, dove non ci sono più né un bar né una tabaccheria e dove anche la rivendita di giornali da tempo espone il cartello Cedesi Attività. Ecco che la società farmacie comunali Cuneo SRL, completamente di proprietà del comune di Cuneo, ha scelto proprio il movicentro come location per una farmacia. È vicina all'ospedale e può essere utile per i pendolari, oltre ad essere un passo significativo per il rilancio di tutta la struttura, da molti considerata una cattedrale nel deserto. I tempi sono stretti anche perché c'è davvero molto da fare. La farmacia andrebbe ad occupare la biglietteria e gli uffici del centro di interscambio ad oggi mai utilizzati. Tali locali richiedono modifiche impiantistiche ed edili, approvati in sede di delibera di giunta lo scorso 30 dicembre. Ma c'è in ballo il ricorso da parte degli amministratori di farmacie di Cuneo appoggiati da Federfarma, al quale il comune si è opposto. La prima udienza si è svolta il 12 gennaio scorso e la prossima sarà a maggio. Nel giro di un paio di mesi, quindi, la farmacia aprirà. Anche se con il ricorso pendente sulla legittimità di questa apertura e con la sfida più importante, quella di essere il punto di partenza per la riqualificazione del movicentro e di conseguenza di tutta la zona che gravita attorno alla stazione ferroviaria.